Via libera al ristoro ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 149 del 9 novembre scorso di parte dei costi fissi sostenuti dalle strutture sanitarie accreditate interessate dalla sospensione della propria attività in seguito alle ordinanze regionali emanati per fronteggiare l'emergenza covid-19. Lo comunica l'assessore alla salute Nicoletta Verì dopo l'istruttoria condotta al Dipartimento regionale sanità che verrà ora recepita in una specifica ordinanza. Il provvedimento è destinato a quelle strutture assegnatarie di budget da parte della regione per l'anno in corso che potranno richiedere un contributo per la copertura dei costi fissi sostenuti come retribuzione e contribuzioni per il personale nel limite del 90% del budget stesso. L'ammontare dei costi sostenuti dovrà essere dettagliatamente rendicontato e non potrà in alcun modo generare eccedenze rispetto ai tetti di spesa assegnati a ciascuna struttura.